Benvenuto Danilo D'Ambrosio, classe 88, nato a Napoli, benvenuto all'Inter. Grazie mille, grazie a voi per l'accoglienza. Com'è stato arrivare qua? C'è tanta emozione, c'è soddisfazione, immagino, arrivare a un grande club. Sì, indubbiamente, emozione, tanta e tanta soddisfazione, soprattutto per la mia famiglia, perché sono partito da lontano e prima era un sogno e quindi esserci è sicuramente una bella realtà. A proposito di famiglia, qua dobbiamo essere sicuri che tu non sei tuo fratello gemello, perché la storia dei calciatori gemelli nel calcio non sono tantissimi, tu hai un fratello gemello che adesso gioca? Un fratello gemello che gioca a Lecce, si chiama Dario e il mio augurio più grande è quello che un domani si possa fare una partita insieme in Serie A. Anche perché dai ragazzini eravate passati insieme nei giovanili della Fiorentina, ricordo bene. Sì, abbiamo giocato insieme, poi le strade si sono divise e lui ora sta facendo bene a Lecce e io sono qui all'Inter per continuare a far bene. Terzino destro, terzino sinistro, insomma puoi coprire parecchie posizioni nel pacchetto di difesa e di centrocampo, queste sono un po' le tue caratteristiche tecniche? Sì, posso giocare su entrambe le fasce, tanto l'importante è che la squadra vinca e che quando vengo chiamato in causa do il massimo per far bene. Si arriva a gennaio con una stagione in corso e quindi quando si arriva a una stagione in corso bisogna sempre cercare di dare un contributo in più per poter far meglio, questo è il momento in cui l'Inter dopo un buon inizio d'anno ha avuto un gennaio un po' particolare, però adesso inizia un mese nuovo, quindi ci lasciamo alle spalle tutto quello che è stato. Sì, indubbiamente, l'Inter è partita bene, poi ha avuto qualche difficoltà, anche un pizzico di sfortuna, io arrivo in un momento non felicissimo, ma non è un problema, darò il massimo come ho sempre fatto. Col Toro non hai giocato le ultime partite, però a livello di salute e di condizione sei pronto per lavorare con la squadra? Sì, sì, con il Torino ho disputato tutte le partite fino a metà gennaio, poi un po' tutti sanno la situazione, quindi non ho giocato, però sono in perfette condizioni fisiche. Allora, l'ultima cosa, un saluto te lo chiedo ai nostri abbonati, ai nostri tifosi che hanno in te, sicuramente diventerai un nuovo beniamino, perché sappiamo quello che è successo a Torino, dove si è andato addirittura capitano, quindi uno che da tutto piace ai tifosi di tutte le squadre. Qual è dell'Inter in particolare? Indubbiamente io prometto ai tifosi dell'Inter di dare tutto, tutto me stesso, dall'inizio, fin dalla prima partita, che sarà una partita importante e determinante quella contro la Juve. e quindi un abbraccio e un saluto a tutti quanti.